Questo video è offerto da Siamo con Don Alfio Scapellato, amministratore della Chiesa Madre di Augusta, oggi, questa sera. Cerchiamo un po' di capire un po' di più per quanto riguarda questa giornata del piccolo gesto, una raccolta alimentari per le famiglie meno ambienti. Anche la Chiesa schierata in prima fila per questo gesto importante. Direi soprattutto la Chiesa da sempre e ciascuna parrocchia cerca di attivare una propria caritas parrocchiale in collaborazione con le altre parrocchie, ovviamente, ma anche con la Dioci. Qualcuno prende gli alimenti anche dal Banco Alimentare, qualcuno dalla caritas. Noi abbiamo preferito prendere gli alimenti dalle offerte dei nostri parrocchiani, almeno per ora. Cerchiamo proprio di distribuire per quello che riceviamo. E anche oggi, questo piccolo gesto, ciascuno facendo poco, può contribuire a che tutti possano avere qualcosa da mangiare. La gente sta rispondendo? Devo dire sì che, nonostante la giornata, anche stamattina che pioveva, la gente sta portando un po' di alimenti che ci serviranno a fare ogni settimana la distribuzione. In maniera particolare un pacco più sostanzioso per prima di Natale. Oltre alla raccolta differenziata, molto probabilmente così come è stato fatto lo scorso anno e nel Chiesa Madre, però quest'anno si farà in un'altra struttura, ci sarà una cena per tutte queste famiglie. Abbiamo preferito fare con gli operatori caritas e con le persone che assistiamo, un momento di fraternità che comprende proprio anche la cena, proprio per essere dei piccoli gruppi, un piccolo gruppo con cui le persone, non si sentano a disagio ma si sono accolte e quest'anno la facciamo nei locali dell'Aga per un centro che noi abbiamo e che possiamo utilizzare per questi momenti di fraternità ma anche dei catechesi per la distribuzione stessa degli alimenti della carita. Come uomo di fede, l'ultima cosa, che contezza ha sulla, tra virgolette, povertà, il disagio nelle famiglie di Augusta? Purtroppo c'è molta povertà, io vengo da Lentini, insomma, lì erano molto di più. Qui, forse perché anche al centro storico abitano meno famiglie giovani o perché non riusciamo ad andarle magari a trovare, magari che ha bisogno, non si espone, diciamo. Però ci sono ancora oggi le persone che hanno bisogno. Poi, per tanto, non soltanto di mezzi materiali ma anche di valore, tante volte, di necessità di un dialogo, di una consolazione, di un gesto di interesse proprio nei loro confronti. Lo vedo ogni giorno con persone che vengono, anche giovani, a chiedere un'abitazione, a chiedere qualcosa. E hanno bisogno proprio di aprirsi, di parlare e di essere ascoltati. Quest'anno un piccolo gesto, ma importante, quello della raccolta alimentare. Abbiamo, questa è la prima edizione della giornata del piccolo gesto importante. Qual è il piccolo gesto importante? Noi cerchiamo di aiutare le nostre 29 famiglie che veramente, dove ci sono tantissimi bambini, per cui cerchiamo di aiutare soprattutto i bambini. E per fare un po' di cosiddetto rumore, eccetera, abbiamo organizzato questa manifestazione musicale associata alla nostra, diciamo così, raccolta alimentare. Raccolta alimentare che... Come sta andando? Siamo molto contenti di questa raccolta alimentare. Abbiamo avuto delle offerte in danaro, abbiamo avuto, come ben vedete qua, abbiamo tantissimi alimenti e soprattutto hanno tutti i miei amici, tutti gli amici miei, di mia cognata, che non sono soltanto io, ma gli amici di tutti i collaboratori della Caritas. Abbiamo focalizzato questa raccolta alimentare soprattutto ai bambini, per far trascorrere un Natale praticamente diverso dagli altri. Per cui daremo molti più alimenti nel periodo di Natale. avremo delle associazioni che ci porteranno dei panettoni, dell'olio, eccetera. Per cui siamo soddisfatti di questa raccolta alimentare. Penso che sia la prima edizione e probabilmente ne faremo tante altre. Tu mi dicevi a telecamere spente che, insomma, è complicato anche fare questo determinato tipo di iniziativa per coinvolgere la gente, però voi vi siete avvicinati anche, lo diciamo, tra virgolette alla musica, che vi dà quella spinta in più e alle persone per avvicinare. Certo, anche io suono con alcuni ragazzi che sono qui, che stanno suonando, e ho pregato loro di venire qua. È stato un successo. È stato un successone perché tutti i colori uguali con cui ho parlato, c'è gente che viene da Floridia, da Catania, da Sortino. Tutti quanti hanno partecipato veramente in maniera naturalmente gratuita, hanno dato il loro contributo. Sono veramente soddisfatto e felice di tutto. Mi ricordavi che voi non avete un'associazione o più associazioni al vostro fianco che vi aiutano per questa raccolta alimentare. Ci pensate tutto da voi? Praticamente sì, ci pensiamo tutto noi. A volte interviene anche Padre Alfio con noi e a volte ci autotassiamo per andare a fare la spesa e far contenti soprattutto le famiglie. Ma soprattutto, ripeto ancora, io sono focalizzato molto sui bambini. perché fare tanti sacrifici e occupare molto del nostro tempo per questo ma puoi vedere il sorriso di un bambino o il 5 che ti dà una... Ti gratifica. Sono felice, sono felice di questo. Tanti collaboratori aderiscono e ti aiutano per questa iniziativa. Volevi fare qualche ringraziamento? Sì, esattamente sì. Vorrei ringraziare tutti i gruppi che stanno partecipando a questa iniziativa. Incomincio dagli Asia, poi Salvo Tempio, il noto sassofonista augustano, il maestro Peppe Di Mauro, percussionista di fama, e poi qualche amica, Antonella Giarracca, un altro gruppo, Discopatia. Ho preso degli appunti, non vorrei dimenticare nessuno. La Sicilia Band che parteciperà a questo e poi anche gli allievi della scuola della Diapason della professoressa Passanisi. Per cui grazie, 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 perché mi hanno dato grande supporto queste persone e mi hanno aiutato a organizzare questa iniziativa. Assessore alla cultura Carabino, il Natale ad Augusta 2023, non soltanto eventi spettacoli, ma anche un'attenzione particolare alla solidarietà, alle famiglie meno ambienti, con una raccolta alimentare, grazie anche al volontariato e alle associazioni che si sono avvicinate per far sì che questa raccolta sia veramente importante. Sì, una giornata dedicata alla solidarietà che abbiamo voluto inserire nel programma del cartellone natalizio. Già da questa mattina tante associazioni stanno raccogliendo per le famiglie indigenti. Noi dobbiamo dire grazie, in questo caso, alla Caritas della Chiesa Madre che ha voluto così inserire nel programma del cartellone natalizio un momento di attenzione per le famiglie indigenti con una raccolta straordinaria di generi alimentari, generi per la pulizia personale, destinata alle famiglie un po' della città. Naturalmente è un problema che l'amministrazione segue già anche attraverso i servizi sociali e quindi con lo specifico assessorato, ma in questo contesto di attività ricreative, in questo contesto di grande aggregazione popolare, come il programma e il cartellone natalizio che abbiamo appena aperto ieri, una giornata dedicata all'attenzione per le esigenze dei meno ambienti abbiamo ritenuto che era un motivo veramente di grande interesse. Ecco perché ringraziamo Don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della Chiesa Madre, il vicario Don Daniele Baggeri, tutti gli amici della Caritas che già da questa mattina stanno raccogliendo generi alimentari. Nonostante l'inclemenza del tempo, devo dire che c'è una grande attenzione della nostra comunità. Ancora una volta, quindi, Augusta dimostra di avere particolare sensibilità e il mondo del volontariato che è una realtà attiva, forte e fiore all'occhiello della nostra città.